E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, buon pomeriggio da Alberto Pucci e benvenuti a Juventus Lazio. Partita valevole per l'ottava giornata di campionato. Juventus Lazio comincia in questo istante. Asamoah, Mandzukic, splendido il colpo di tacco del croato. Attenzione a Matuidi dai 25 metri, prova al sinistro. Palla che si impenna. Ancora Asamoah, con un po' di spazio potrebbe crossare. Arriva adesso il La Crosa, la conclusione pallone che rimane lì. E poi Douglas Costa per l'1-0 della Juventus. Sulla conclusione di Chedira, la risposta di Stracoscia. Palla poi troppo semplice per Douglas Costa che firma il suo primo gol all'Allianz Stadium. Parolo. Allarga bene per Marusic. Lo va a chiudere Asamoah. Il cross di Marusic nel mezzo. Il colpo di testa di Immobile. Mandzukic tra le linee per Chedira. Un po' di spazio Chedira. Potrebbe addirittura calciare da lì. Ci pensa prova! Stracoscia in calcio d'angolo. Grande Sami Chedira. Una botta dai 25 metri. Attenzione! Attenzione! Che occasione per Iguain! Incredibile! Secondo tempo che comincia. Ora... Milinkovic, Savic, Luis Alberto per Immobile! Il pareggio della Lazio con Ciro Immobile. Subito in apertura di match. E festeggiano i tifosi bianco-celesti. Iguain, Iguain, Iguain! Si mangia il 2-1 il Pipita. Spara in bocca a Stracoscia. Milinkovic, Savic. Palla dentro per Immobile. Immobile! Salta Buffon. Finisce a terra. Calcio di rigore. Calcio di rigore per la Lazio. Arriva il fischio. Parte Immobile. Va Immobile! 2-1 Lazio! Lazio in avanti! Lazio che ribalta la partita all'Alel Stadium. Chiellini. Matuidi dai 25 metri. Vada Di Bala. Di Bala la conclusione! Il palo! Che occasione per Di Bala! 46esimo in corso. Rivediamo. Prende la mira. La botta. Palo pieno. Parolo che allontana ancora nella zona di Milinkovic, Savic. Tutto regolare. Milinkovic, Savic. Serve a Caicedo. Limite all'Ala. Caicedo! Buffon! Evita il 3-1! Altro cross. Poi il colpo di testa di Bentancur. Patrick deve allontanare. Intervento ruvido su un avversario. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Va Di Bala! Stracoscia! Stracoscia! Termina qui la partita! La Lazio sbanca l'Allianz Stadium con il miracolo di Stracoscia che para il calcio di rigore a Paolo Di Bala. Il 6-1!